Ogni giorno vengono lanciate centinaia di migliaia di collezioni di NFT, ma le persone che creano queste NFT come lo fanno? Per realizzare una collezione di NFT serve innanzitutto avere delle immagini da mischiare tra di loro. Queste immagini sono dette tratti e mischiando tutti questi tratti verrà poi fuori un NFT. Oltre al file png o jpeg, ma di solito si predilige il png, vengono creati anche dei relativi file json. Correlativi intendo che se viene creato l'1.png e il 2.png fino a 10.000 in questo caso, verranno creati anche l'1.json, il 2.json fino al 10.000.json. E questo file json conterrà tutti i metadati, quindi il nome dell'NFT, il nome della collezione, la descrizione di questa collezione, dove trovare l'immagine sull'IPFS e così via, come anche i tratti, quindi il background di che colore è, gli indumenti che magari indossa un personaggio di che colore sono e così via. Però effettivamente una volta che si hanno le immagini, come si fa a creare veramente gli NFT? Molte persone consigliano dei siti online, come ad esempio un Mintable, che permette di caricare delle immagini e di mixarle tra di loro creando sia gli NFT, quindi i file png, che poi una volta caricati in blockchain diventeranno degli NFT, ma anche i file json, i metadati. Qual è il problema però? È che Mintable li crea in modo scorretto. Intanto i file che ci restituisce non sono rinominati come file json, ma semplicemente sono numerati, dato 0 fino al numero delle collezioni. Se la collezione è di 500 pezzi, li numererà da 0 a 4,99. Così via per qualsiasi tipo di grandezza. In condizioni normali questo andrebbe anche bene, ma in realtà non è così. Perché prima di poter caricare una collezione su OpenSea o creare una minting d'app per far mintare queste NFT direttamente all'utente finale, bisogna caricare le immagini su un IPFS. Una volta caricate su un IPFS ci verrà dato un CID, ovvero un Content Identifier che è unico per quella cartella. Se un file all'interno di quella cartella dovesse essere modificato, il CID completo di tutta la cartella cambierebbe. Quindi il CID è unico per una cartella. Se vi provaste a caricare la stessa cartella più volte, il CID sarebbe quindi sempre uguale, perché viene creato in base al contenuto di quella cartella. Il problema adesso qual è? Che se invece dovessero essere 10.000 NFT, non potete farlo a mano, badate bene che ci vorrebbe tantissimo tempo. Per questo si usa un programma che sia in grado di rimpiazzare questo CID all'interno dei JSON. Però questo non si può fare con i metadati che vengono creati direttamente da siti online, quali Mintables. Quindi non usateli mai per creare una collezione, men si utilizzate altri metodi come quello che stiamo per vedere adesso. Per seguire questo tutorial vi servirà Node.js. Regatevi nel link che vi lascio qui sotto in descrizione e scaricate la versione consigliata, non quella corrente, perché spesso quella consigliata è molto più ottimizzata per il sistema operativo che state utilizzando. Una volta scaricato, aprite questo file e seguite la procedura di installazione come per qualsiasi altro programma. Oltre a Node.js vi servirà anche Visual Studio Code, ovvero un editor di codice. Andate sempre nell'altro link che vi lascio qui sotto in descrizione e fate download for Windows, nel mio caso che utilizzo Windows, altrimenti scaricatelo per il vostro sistema operativo. Oltre questi due vi servirà un codice che vi permetterà di creare NFT e successivamente, una volta caricati su un IPFS, di modificare il CID all'interno dei file JSON. Questo codice è l'Hashlips Art Engine. Vi lascio il link sempre qui sotto in descrizione e una volta aperta questa pagina andate su Code, Download Zip, magari rinominatelo e salvatelo dove più preferite. Recatevi poi dove l'avete installato ed estraete il contenuto del file zip. Una volta aperto cercate Visual Studio Code e mi raccomando su Windows fate tasto destro ed eseguite come amministratore, perché su Windows spesso se non si fa questa procedura dà errore, mentre su Mac non ho riscontrato la stessa cosa. Prima di andare avanti voglio ringraziarvi perché siamo quasi a quota 800 iscritti e inoltre invito chi di voi non fosse ancora iscritto ad iscriversi al canale perché al raggiungimento di 1000 iscritti lancerò una mia collezione di NFT con tantissime utilities e tantissimi benefici e 500 pezzi di questa collezione saranno free to mint per voi che siete iscritti al mio canale. E tra l'altro lo smart contract che vorrò utilizzare per la mia collezione sarà uno smart contract che vi permetterà di risparmiare tantissimo sulle gas fees, arrivando a pagare in certi orari della giornata anche solamente 2€-3€ per un singolo NFT mintato. E inoltre vorrò utilizzare lo standard ERC 721A che faccio vedere anche in questo video che vi lascio nelle schede, che in pratica vi permetterà di mintare anche più di un NFT ma facendovi pagare le gas fees come se ne stesse mintando solamente uno. Una volta aperto Visual Studio Code andate su File, Apri cartella e poi selezionate la cartella che avete estratto. Se anche a voi ha creato una cartella nella cartella, infatti se io apro prova metadati, mi trova dentro Ashlips Art Engine e all'interno quello che mi serve, aprite il terminale, fate nuovo terminale, andate su Ashlips Art Engine, tasto destro, rinomina così che possiate copiare il nome, fate CTRL-C e poi nel terminale digitate CD che sta per Change Directory che vi permetterà di spostarvi di directory all'interno del terminale, poi fate CTRL-V e date invio. Vedete che adesso dopo prova metadati c'è anche Ashlips Art Engine. Qui solamente dopo aver scaricato ed installato Node.js che potete verificare tramite il comando node-version, ecco qui la mia versione in questo caso è la 16.13.2 ma la vostra potrebbe tranquillamente essere diversa. E una volta aver verificato che Node è stato davvero installato, digitate il comando npm install. Adesso verranno installate tutte le dependencies che serviranno a questo programma per poter funzionare correttamente. Potrebbe metterci poco come tantissimo tempo. Voi lasciatelo lavorare. Quando avrà finito digitate il comando node-index.js, date invio e vedete come sono state create 5 immagini. Queste immagini potranno essere visualizzate dentro la cartella build che prima non c'era ma una volta digitato questo comando verrà creata automaticamente. Dentro la cartella build c'è sia la cartella images sia la cartella json. Dentro la images troveremo delle immagini ovviamente mentre dentro la cartella json troveremo i metadati riferiti a quelle immagini. In più c'è anche un file metadata.json che in realtà si può anche cancellare perché non serve a niente e che sostanzialmente contiene un riepilogo di tutti gli altri. Come vedete uno json ha i file del primo, due json a tutti i metadati del primo, il secondo del secondo, mentre metadata li contiene tutti. C'è il primo, poi qui c'è il secondo, qui sotto c'è il terzo, fino al quinto. Ovviamente se ne create 10.000 li contiene tutti fino al 10.000. Questi NFT però come sono stati creati? Sono stati creati mixando insieme tutti questi layers. C'è il background, c'è il bottom lead, l'icolor e così via. Ovviamente voi potrete personalizzare il tutto come più preferite. Semplicemente tramite l'explora file andate nella cartella che avete scaricato, aprite tutto fino ad arrivare ai layer e qui potete tranquillamente rimpiazzarli eliminando queste cartelle e mettendoci delle cartelle nuove con all'interno di queste cartelle le vostre immagini. Come potete vedere se io apro background c'è un black hashtag 1, mentre se vado in bottom lead c'è high hashtag 20, low hashtag 40 e middle hashtag 40. Questo perché? Semplicemente perché mettendo hashtag e 40 state dando un peso a quell'immagine. Vi faccio un esempio. Hashtag 40 ed hashtag 40 hanno lo stesso peso che è sicuramente più alto dell'hashtag 20. Quindi questi due, middle e low, avranno più probabilità di high di uscire quando le immagini vengono mixate. Lo stesso vale per l'icolor. Il ciano, il verde, il rosa, il viola e il rosso sono tutti hashtag 1, quindi è molto più probabile che uscirà l'hashtag 10 rispetto a questi altri. Infatti se andiamo a vedere le immagini che sono state generate andando in build, in mages e poi aprendole, vediamo che questa ha il colore giallo, questa ha il colore giallo, anche questa è gialla, anche questa è gialla e addirittura anche questa, perché sono state create 5 immagini utilizzando questa cartella dove lo yellow è prevalente. Ovviamente se avessimo generato magari 100 immagini sarebbero usciti ovviamente anche gli altri colori. Una volta rimpiazzate tutte le cartelle e le immagini con quelle che volete utilizzare voi per creare i vostri nft, dobbiamo però modificare alcune impostazioni. Chiudendo tutto questo perché magari vi può confondere, chiudiamo anche i layer e torniamo alla schermata di prima. clicchiamo src e poi config.js. Ecco che qui possiamo rimpiazzare moltissime cose. Intanto qui troviamo il network.eth, lo stesso network che in realtà va bene anche se volessimo creare degli nft per polygon, ma che andrebbe cambiato in .sol se volessimo creare degli nft per solana. Ma questo non è lo scopo di questo video, ma se vi interessa vi lascio quest'altro video nelle schede dove parliamo appunto di questo. Qui in name prefix possiamo cambiare il nome della collezione. Infatti se io adesso vado in build e in json e ne apro uno, vediamo come qui nel name c'è yourcollection hashtag 1. Se qui dovessimo togliere yourcollection semplicemente cosa cambierebbe? Che quando creiamo gli nft qui non c'è più yourcollection ma c'è semplicemente il numero. E a me sinceramente adesso va bene così. Qui c'è la descrizione che noi possiamo modificare come ci pare e che poi apparirà sempre qui sotto. Al posto di questo remember to replace ci sarà appunto la scritta che noi metteremo qui. In questo caso tutte le lettere a caso. Poi c'è l'ipfs che però per adesso non ci interessa. Tutta questa parte sotto serve solamente se noi qui mettiamo .sol invece di .th, altrimenti questa cosa è completamente inutile e voi potete tranquillamente sorvolare. Poi scendiamo qui sotto, ecco qui, grow edition size to 5. Infatti io ne ho creati 5 come avete visto. E questo è proprio il numero da rimpiazzare mettendoci quello dei quanti nft vogliamo creare. Infatti vedete che qui c'era già 5 e a me ne ha creati 5. Se mettessi 10 però me ne creerebbe 10. Adesso però vedete che qui sotto c'è anche il name, background, name eyeball, name eyecolor che sono tutti i nomi dei layer. Quindi se voi adesso li rimpiazzate come vi ho detto prima per creare i vostri e ovviamente magari background non c'è più, bottom lead non c'è più, qui dovete eliminare queste scritte e rimpiazzarle con il nome delle cartelle che avete aggiunto voi. Vi faccio un esempio. Se adesso background facciamo che voi ce l'avete ancora. Tutte le altre non ci sono più e al posto di eyeball ce n'è una che si chiama ciao. Voi dovrete scrivere qui ciao e ovviamente nella cartella layers dovrà apparire questa cartella che si chiama ciao. Vanno posizionate tutte in ordine gerarchico. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che background starà sotto a tutto, eyeball starà sopra background, eyecolor starà sopra eyeball e così via. Quindi background è la prima cosa, top lead è l'ultima cosa. Infatti se andiamo in images vediamo come il background sta sotto a tutto, è questo qui quello black, mentre il top lead ovvero la palpebra superiore sta sopra a tutto il resto. Infatti come potete vedere qui sta sopra al bottom lead che è quella che sta leggermente più sotto. Si nota poco ma in realtà sta sopra. Scendendo ancora qui sotto potete modificare il formato delle immagini che verranno generate. Ad esempio se 512 è troppo piccolo potete tranquillamente mettere 2000 per 2000. Ovviamente però cercate di rispettare il formato delle immagini che avete generato. Ovvero se tutte le vostre immagini che sono nei layer sono 2000, voi mettete 2000. Altrimenti se sono 1000 non mettete 2000 o addirittura un numero superiore perché questo potrebbe rovinare la qualità delle immagini che verranno fuori. Infatti visto che queste immagini non sono tarate per essere 2000 per 2000 io ritorno alle impostazioni che c'erano prima. Vedete adesso come io ho messo questo hashtag 10 e ho modificato questi parametri. Se adesso andassi a ridigitare il comando volendo o riscrivendolo da capo o cliccando la freccettina in su che troviamo nella tastiera che copia l'ultimo comando ed essi di nuovo invio vediamo come questa volta non vengono create 5 immagini ma ne vengono create 10. Eccole qui. E vediamo già che non c'è più solo il giallo ma ce ne sono anche di altri colori questo perché semplicemente ne sono state create di più e quindi il programma ha cercato più volte di utilizzare una di quelle immagini ed è uscito quindi anche un altro colore come qui il rosso o il ciano al posto del giallo che è molto meno raro. Scendendo qui sotto però se aprissi il file uno json vedete come il nome c'è hashtag 1 in description ci sono tutte quelle lettere che io ho inserito a caso ma nell'image c'è ancora questo new yuri to replace questo perché io vi ho detto che ancora non era momento di modificarlo. Adesso viene la parte del caricamento sull'ipfs. Potete farlo sia con ipfs desktop che va scaricato appunto sul vostro pc e che è gratis ma più lento altrimenti si può utilizzare tranquillamente pignata che però è un provider a pagamento che ultimamente ha anche aumentato molti prezzi. Per questo tutorial io utilizzerò l'ipfs desktop voi dovrete andare qui su install e scaricare ipfs desktop. Ovviamente io non lo faccio perché l'ho già scaricato. Una volta aperto vi troverete in questa schermata. Andate qui dove ci sono i file e a voi sarà probabilmente vuoto se è la prima volta a me invece ci sono le altre cartelle che ho già utilizzato per altri progetti. Cliccate qui su importa cartella andate dove queste immagini e questi json sono stati generati quindi vado in build clicco images seleziona cartella e adesso qui mi sta dando errore. In realtà lo fa molto spesso ma probabilmente questo è perché esiste già un'altra cartella con lo stesso nome. Per ovviare a questo problema ma in generale anche se non ci fosse un'altra cartella sempre con lo stesso nome io preferisco cliccare su nuova cartella dargli un nome io in questo caso metto uno in images clicco su crea e me la mette qui sopra davanti a tutto. Come potete vedere qui sotto c'è il cid che è questo content identifier. Vedete adesso però come caricando delle immagini all'interno questo cid cambia perché cambia il contenuto della cartella stessa. Clicco su questa cartella importa file clicco la cartella images e li seleziono tutti. Clicco su apri e come potete vedere ogni file ha questo check verde che ci fa capire che le immagini sono state caricate correttamente. Se voi doveste generare 10.000 immagini io vi consiglio di non caricarne più di 2.000 per volta perché a volte il programma si può inceppare. Quando avete finito usciamo cliccando qui su file e come potete vedere il cid di questa cartella è cambiato non è più quello di prima. Adesso dovete andare qui cliccare su questi tre puntini e copiare il cid. Riducete da icona questo ipfs andate qui dove c'è il config.js e al posto di questo new you to replace dovrete fare ctrl v del cid che avete appena creato. Poi cliccate ctrl s e ovviamente voi non dovete far ripartire il comando node index.js perché vi creerebbe delle nuove immagini che poi andrebbero nuovamente caricate su pfs e questo cid cambierebbe un'altra volta. Quindi dobbiamo utilizzare un'altra funzione di questo programma. Quindi digitate node utils slash update trattino basso info punto js. Date invio e vedete come il base URI è stato cambiato in questo ipfs due punti doppio slash e questo cid mentre la descrizione e il nome sono rimasti uguali perché noi non l'abbiamo cambiati. Ovviamente se io qui al posto di questa descrizione volevo modificarla con quest'altra tutte A, poi avessi fatto ctrl s perché ricordate sempre di salvare il file prima di far partire degli script e ridigitassi nuovamente lo stesso comando vediamo come l'ipfs è sempre questo ma la descrizione è cambiata. Lo stesso però vale anche per il nome che volendo potete cambiare e quindi queste nft al posto di name hashtag 9 avrebbero un altro name che mettete voi più questo hashtag 9 che è semplicemente la numerazione degli nft. Una volta che abbiamo anche questi file json possiamo tornare sull'ipfs andare su importa nuova cartella che io chiamerò 1 json clicco su crea la apro faccio in porta questa volta file clicco su json e li carico tutti ad eccezione del metadata punto json perché in realtà è inutile. Verifico che tutti questi nft abbiano una spunta verde e una volta caricati torno nella schermata di prima vedo che anche in questo caso il cid è cambiato rispetto a quando la cartella era vuota clicco sui tre puntini copio questo cid e poi mi rego sul browser una volta qui digito ipfs due punti doppio slash faccio contro il v del cid poi faccio slash uno punto json essendo che l'ipfs desktop come vi ho già detto è molto più lento rispetto a pignata ad esempio ci metterà sicuramente più tempo a trovarmi il file che sto cercando però non vi preoccupate al massimo fate più volte f5 per aggiornare la pagina e prima o poi ve lo trova il problema qual è è che se voi stesse creando una collezione di 10.000 nft non potrete mai utilizzare l'ipfs desktop perché è molto lento e andrebbe a finire che alcuni nft non verrebbero caricati su openc ma bisognerebbe aggiornare i metadati moltissime volte prima che questi nft siano trovati quindi io anche se pignata a pagamento e mi rendo conto che alcuni piani sono un po proibitivi vi sconsiglio l'ipfs desktop per collezioni davvero tanto grandi infatti come vedete qui mi da 504 gateway time out perché non ha fatto abbastanza in tempo a trovare questo file io clicco su f5 e aspetto magari uno o due ricaricamenti prima che questo file venga trovato ed ecco che una volta aver riaggiornato la pagina più volte mi trova questo contenuto online dove c'è il nome la descrizione ipfs e tutti questi tratti quindi una volta creato poi uno smart contract che però non è tema di questo video noi utilizzeremo l'ipfs con questo cid che abbiamo appena generato dei file json che permetteranno poi ai marketplace come openc di trovare le nostre immagini perché loro avranno accesso al link di questo cid dei json e una volta aperta questa schermata sapranno in automatico che l'immagine si trova a quest'altro indirizzo quindi in automatico loro faranno ovviamente non è così non fanno ctrl c e ctrl v nel browser però una volta che avranno trovato questo json sapranno che a questo indirizzo c'è anche l'immagine quindi semplicemente noi se adesso cercassimo questo indirizzo ecco qui che ci appare l'immagine e se tornassimo su visual studio code possiamo verificare che questa è davvero la prima immagine eccola qui 1.png come c'è scritto qui su visual studio code ed 1.png come c'è scritto anche qui nel brave browser mentre quest'altro è l'uno punto json il video termina qui lasciate like iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi altri video sempre inerenti a questo mondo e se questo video vi è stato utile e pensate che possa essere utile a qualcun altro inviateglielo noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao